Benvenuti in questa nuova intervista, oggi abbiamo qui con me Marco Vaggi, sono veramente onorato di averti qui con me Marco e grazie per aver accettato la mia proposta di fare questa intervista insieme, questo incontro insieme. Ciao Federico, grazie dell'opportunità e un saluto a tutti quanti che stanno vedendo questo video. Ok, Marco Vaggi è un grandissimo contrabassista jazz italiano, è stato un grandissimo didatta e hai insegnato praticamente per un bel po' di anni alla Civica Jazz di Milano, diciamo che la tua vita si è divisa tra un'intensa attività concertistica sia in Italia sia in Europa, hai collaborato con i più grandi musicisti jazzisti italiani, europei e anche americani se non sbaglio e poi ci racconterai tu se vorrai raccontarci con che artista in specifico hai collaborato di più o se vuoi poi raccontarci delle collaborazioni artistiche e se ci vuoi far ascoltare qualcosa di specifico ti lascerò a te condurre questa cosa. Noi ci siamo conosciuti alla Civica Jazz di Milano poiché sei stato mio maestro nei corsi di musica di insieme e sono molto contento di aver partecipato a queste lezioni ma anche ti dirò tutti i studenti che sono passati diciamo sotto le tue lezioni hanno sempre come dire commenti positivi ogni volta che parliamo di te e insomma ci sono sempre commenti positivi e siamo veramente contenti di averti conosciuto e ti voglio chiedere a te oggi tu come ti presenteresti al pubblico ecco attualmente sono un ex musicista oppure diciamo un musicista in anno sabbatico sto facendo il nonno però nello stesso tempo sto mettendo mi diverto anche mettere sempre insieme materiale che può essere utile per l'insegnamento e anche per lo studio mi piace molto andare a vedere le tesi nuove che escono in rete su jazz quelle dei master in genere dei paesi anglosassoni perché la lingua che io conosco purtroppo solo questa oltre l'italiano e mi piace molto mettere insieme gli audio a cui si riferiscono queste tesi formare una specie di cartella di studio dove poter approfondire cose non sto suonando e diciamo che sto aspettando tempi migliori non non me la sento in questo momento e ho la fortuna che di non averne una necessità economica impellente per cui sto un po a guardare diciamo in questo periodo sto facendo il nonno ok per quanto riguarda un po tu accennavi a a presentare un po qual era la mia storia musicale e allora è sempre un problema presentare una un curriculum una biografia perché sembra sempre una gara di far vedere qual è la più bella biografia qual è il curriculum più importante guarda con chi ha suonato quello con chi ha suonato quell'altro e così via in realtà se andiamo a vedere dietro il curriculum cosa c'è a parte la voglia di farsi notare dobbiamo chiederci se veramente un un personaggio che nel proprio curriculum cita il fatto di avere suonato con musicisti importanti x y z ha veramente o meno poi suonato con questi nel senso questi mi hanno chiamato nel loro gruppo o io ho pagato per suonare con loro io mi sono trovato in una situazione per suonare con loro eccetera allora per quanto mi riguarda con tutti i musicisti americani europei che sono sono che ho con cui ho suonato mi sono sempre trovato nella situazione di suonare con loro quindi non ho mai formato fatto parte di gruppi fissi di musicisti molto importanti appunto americani europei ho sempre collaborato stabilmente con musicisti italiani e basta ma ho avuto la fortuna di avere collaborazioni sporadiche con molti 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 musicisti e non mi metto qui tanto a citarli perché appunto non ha senso sempre di fare la gara a vinca il migliore e diciamo io ho iniziato a suonare perché nella mia classe c'erano dei compagni che di liceo nella classe di liceo c'erano dei compagni che suonavano vari strumenti nessuno suonava il basso è per quello iniziato suonare il basso elettrico e diciamo la cosa che mi ha convinto a passare il contrabbasso a passare al contrabbasso è stato l'ascolto di alcuni dischi di jazz che mi hanno attirato e mi hanno fatto scoprire questa musica ero un ascoltatore di hard rock oppure di come si chiamerebbe adesso anche di progressive music cioè ascoltavo che ne so cream le zeppeli king grimson o cose del genere e diciamo gli album che mi hanno avvicinato al jazz sono stati innanzitutto live evil di mice davis dove c'è un'impronta funk molto molto potente e invece sono stato colpito da jazz at my say all di charlie parker dove ho scoperto insieme diciamo max roach charles mingus bald powell desi gillespie charlie parker ed è stata un una botta di energia una scoperta incredibile e quindi diciamo sono state le due registrazioni che mi hanno avvicinato a questa musica e l'altra cosa importante per me non per quelli che erano vicino a me perché sono stati buoni e comprensivi ma è stato il il frequentare diciamo alla fine degli anni 70 seconda metà quella è una cooperativa molto importante a milano che si chiamava cooperativa orchestra era diciamo c'erano dei personaggi di spicco come franco fabbri che allora suonava negli stormy six monio vadia che poi è diventato famoso per altri suoi spettacoli molto molto belli e nell'ambito del jazz c'era toni rusconi guido mazzon cioè dei musicisti di musica free e molti altri ma l'ambiente era misto cioè gruppi di pop cantautori jazz molto avanzato e specialmente quello che ho imparato è il non limitare di utilizzarsi al fatto musicale in sé ma inserire il fatto musicale sia in problematiche di autoproduzione perché quello che era la cooperativa orchestra era una sorta di molto cooperativa agenzia non so che agenzia molto limitante chiamarla così ma comunque l'intenzione era di autoprodurre concerti e dischi in cui si accostavano espressioni musicali molto diverse l'uno con l'altra e quindi sia frequentare musicisti di impronta diversa dalla tua e sia di inserire la tua musica in una problematica sia produttiva che anche sociale perché allora proprio era un momento molto forte rispetto a dove inserita la tua musica nella società di oggi che senso ha parla che senso a presentare quello che stai presentando e diciamo io ero un giovane moccioso lì dentro ma ho imparato tante tante di queste cose l'altro punto fondamentale della mia formazione è stato frequentare il capolinea il capolinea che cos'è era un locale di jazz che si trovava vicino al capolinea del tram 19 sul naviglio vicino piazza negrelli dove un batterista visionario di nome giorgio vanni aveva aperto un locale di jazz dove ogni sera si suonava jazz e un sacco di musicisti americani frequentavano e venivano a suonare in questo locale proprio anche se avevano dei concerti nelle vicinanze finito il concerto venivano lì quindi si poteva sentire in modo informale dei bravissimi musicisti fare una jam session alla sera cioè potevano fare un concerto venire a mangiare qualcosa al capolinea e dopo mangiato fare una jam session con chi chi c'era e devo ringraziare giovanni monteforte che allora abitava non lontano da casa mia il fatto di avermi introdotto a al jazz dal vivo al frequentare questo locale e anche a tutto il resto della discografia della cultura jazzistica che poi piano piano si è formata dentro di me e anche poi per avermi portato il primo contrabbasso che ho mai usato sul tetto della sua macchina per un po' di chilometri che perché allora non potevo trasportare e il bello di frequentare un locale di questo genere era conoscere un sacco di musicisti vedere chi era aveva più esperienza era più bravo di te è più bravo di tuttora perché parlo di a livello di contrabbassisti io sono cresciuto ascoltando furio di castri paulino dalla porta lucio terzano piero leveratto tutti i grandissimi contrabbassisti e quindi oltre poter imparare osservando e ascoltando c'era la possibilità poi ogni sera di fare una jam session e quindi di poter conoscere mettersi alla prova e imparare tante cose una cosa interessante nel senso che ai tempi nel senso questo periodo che tu stai raccontando il contrabbassista nel senso dov'è che si formava nel senso andava dal musicista classico per imparare diciamo le basi del contrabbasso o c'era già un musicista o c'era già un contrabbassista che era vicino al jazz e che faceva un po' il caposcuola di dei contrabbassisti emergenti di quel periodo guarda anche adesso un po' così di metodi di introduzione alla didattica di propedeutica diciamo jazzisti non ce n'è c'è qualche tentativo ma mica tanti allora poi giorgio vanni in questo locale aveva aperto in un paio di stanze a lato del locale una scuola dove insegnava per esempio il maestro enrico lucchini da cui sono usciti tutti i più grandi batteristi di milano e per il contrabbasso chi insegnava paolo rizzi paolo rizzi era un fresco diplomato di contrabbasso alla scuola civica di musica classica avendo studiato col maestro carlo capriata che era un grande contrabbassista dell'orchestra della scala e a cui diciamo è stato paolo è stato uno dei primi musicisti classici a ascoltare la musica a 360 gradi diciamo che tuttora insegna la scuola civica di musica classica villa simonetta e uno entra in aula e trova appeso il riquadro di buck di scott la faro e di jimmy hendrix a villa simonetta ok però la didattica era classica ed è ancora classica per iniziare perché di propedeutica in tal senso a mio parere non ce n'è ancora certo allora mi sono un po perso mi stavi chiedendo poi oltre a questo no stavi raccontando appunto del capolinea e tutto quello che è diciamo tutto il panorama del capolinea e di personaggi che hai incontrato ok ricordo mi avevi chiesto se poi c'era un insegnante di jazz tra i musicisti che ascoltavo la cosa interessante per esempio ti dico passo a giovanni tommaso il contrabassista di roma famoso per un sacco di collaborazioni allora girava col perigeo e allora io mi sono fatto dare il numero l'ho trovato e l'ho chiamato in albergo dicendo mi dai una lezione vengo a trovarti eccetera e mi ha risposto in un modo tale che mi è scappata la voglia di andare e poi non ci sono andato nel senso ma cosa vieni da me a fare cosa ti posso dire cosa ti posso raccontare e questo è un estremo cioè l'estremo era impara osservando e ascoltando ed è giustissimo è una cosa fondamentale e poi l'altro estremo era che ne sono e la stessa scuola del capolinea insegnava per i sassofoni un grande sassofonista che si chiama sergio rigon si chiamava sergio rigon da cui che ne sono studiato gabriele comeglio e lui un po non tanto ma altri pure trattavano le loro competenze in tema di jazz come un segreto qualcosa che non va diffuso cioè io so fare questo mestiere e non lo spiego a te se no io perdo il lavoro non so come dire quindi non era affatto facile studiare di fatti primi libri che potevi trovare primi metodi e li tenevi come un oggetto di culto a casa proprio consumati e quindi la cosa importante era ascoltare e osservare tengo poi a precisare che allora nel locale in capolinea se io volevo entrare non avevo soldi andavo da giorgio vanni il proprietario ex batterista e gli dicevo giorgio non c'ho soldi posso entrare va bene entra e mettiti in quel tavolo là in fondo che era il tavolo tra i servizi e il palco però ok era tra i servizi ma anche il palco quindi eri a un metro diciamo un metro e mezzo dal pianista e quindi avevi una visuale delle migliori di quello che poteva succedere a livello di interplay gli sguardi di di renderti conto più a pelle di quanto succedeva sul palco quindi è stata una è stata una grande scuola ecco grandissimo quindi diciamo che in questo periodo è incominciato diciamo a farti un'idea di che cos'era il contrabbasso jazz e il ruolo del contrabbasso diciamo è stato fondamentale questo periodo giusto sì perché sei stato a contatto appunto con questi personaggi che erano diciamo già nell'ambiente quindi diciamo ti hanno un po aperto la strada che cos'era lo strumento e infatti dimmi dimmi sì proprio quello è e non è immediata la cosa ci vogliono degli anni io ho iniziato a suonare senza sapere le basi di niente di tutto quello che normalmente si insegna magari avessi avuto che ne so il tuo canale vado vedere le lezioni sugli standard non sapevo niente di tutto quello e per dirti una volta la prima volta che sono andato al capolinea e ho chiesto di suonare dopo tre note sono scappati tutti sono rimasto da solo sul palco della serie è meglio che te ne vai così possiamo sono e per dire anche se dopo ho imparato un po di cose e subito ho avuto l'opportunità di suonare nel gruppo di un grandissimo batterista tutt'ora in attività che si chiama gianni cazzola non sapevo comunque un sacco di cose poi gianni cazzola mi ha introdotto a suonare nel gruppo di giorgio gaslini nel 79 ma diciamo che a un certo punto dopo un 3 4 anni e continuando a frequentare lo stesso il locale i musicisti eccetera ti rendi conto di quanti limiti che hai quanti limiti quante cose non sai davvero e quindi anche lì è successo che mi sono come ritirato quasi non come adesso ma ritirato quasi diciamo erano i primi 82 83 una cosa del genere a studiare se tutte le cose di cui alla fine dopo tre quattro anni che ascoltavo vedeva eccetera alla fine ti rendi conto davvero di cose che magari all'inizio puoi capire intellettualmente ma capirle veramente col cuore con le mani e tutto è molto più difficile quindi a un certo punto daie 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 boh ho capito devo studiare tutto questo tutto questo se voglio fare musicista e mia curiosità è per per darci un'idea quali erano le tue sessioni di studio se poi ti ricordi cosa facevi in quel periodo cosa hai fatto per migliorare male era la mattina esercizi di musica classica di tecnica di scioglimento eccetera e poi un sacco un sacco un sacco di trascrizione esecuzione sul disco la prescrizione esecuzione sui dischi ok una marea e poi quando sei stanco passi al pianoforte e ti sono i tuoi accordi quando si sta anche al pianoforte ti ascolti delle cose quando si stanco di ascoltare ritorni a studiare e il tempo va via chiaro che cosa deve avere la fortuna che c'è babba e mamma che ti fanno trovare un pasto caldo e un tetto ovviamente non è non è da tutti qualche soldo anche lì l'avevo messo via dai due tre anni precedenti che iniziato a lavorare professionalmente nel 79 diciamo nell 82 83 ho proprio avuto questa esigenza di chiudere e ripartire poi certo e una cosa interessante che ti vorrei chiedere nel senso che che cos'è la differenza certo dico dal mio punto di vista tra entrare professionalmente nel mondo della musica e non è non entrare nel mondo della musica cioè nel senso che cos'è che tu hai detto sei entrato professionalmente che cosa vuol dire entrare professionalmente nella musica cioè nella tua vita cosa cosa che significato ha avuto o che significato ha appunto allora ho usato il termine impropriamente diciamo no ho scelto il termine peggiore che potevo usare però nel senso che so leggere la musica so cosa deve dovrebbe fare il basso in determinate situazioni stilistiche in una big band in un gruppo che si orienta verso suonare la musica anni 40 o anni 60 o anni 70 e così via avere una competenza delle vari stili sul tuo strumento riuscire a leggere a prima vista sia note che una griglia di accordi che complicata che sia questo lo chiamo una serie di competenze professionali questo chiamo per il resto competenze professionali secondo me e non avere competenze professionali cosa vuol dire che se il mio scopo nella musica è soddisfare la persona che mi chiama a suonare cioè federico mi chiama nel suo gruppo e io credo che ti faccio un'idea per suonare nel gruppo di federico io devo fare questo e questo e questo sì perché conosco federico sa che vuole dal basso questa cosa quest'altro eccetera questo è il comune atteggiamento professionale ma è la morte della musica se vai avanti a suonare in questo modo o sei un impiegato della musica o alla fine ti fai troppo male certo certo perché è una cosa come dire negare proprio a se stesso i propri sentimenti la propria voglia di esprimersi purtroppo al giorno d'oggi l'ottanta diciamo siamo buoni si l'ottanta per cento della musica viene fatta così cioè seguendo delle regole certo ma come dice un libro a me molto caro le regole sono per l'uomo l'uomo per le regole ok quindi se io seguo le regole sto annullando l'uomo certo però io posso dire devo guadagnare devo portare a casa la pagnotta e devo saper seguire le regole giusto però occhio che se la tua vita va avanti così diventi come uno che va in banca la mattina e lavora tutto il giorno finisce lavorare torna a casa tu vai a suonare fai quello che devi fare finici suonare torna a casa e siamo lì non è un lavoro che si dice comunemente artistico sì infatti te l'ho chiesto proprio perché è un po' paradossale appunto la professione nel senso paradossale per dire nel senso che è difficile coniugare diciamo essere professionisti e fare e fare l'artista o comunque esprimersi totalmente come si è nella società di oggi ecco perché poi comunque e se no poi anche difficile appunto come dici tu guadagnare qualche soldo no e quindi appunto proprio per questo che te lo chiedevo che io sono pienamente d'accordo con te però immagino che è giusto avere anche quello che hai detto insomma è giusto avere anche entrambe perché forse è difficile rimanere su uno cioè nel senso forse Miles Davis è rimasto a ricercare tutta la vita perché era Miles Davis o comunque poi è difficile nella vita normale non che sia impossibile perché io credo che tutto sia possibile però nel senso penso che è anche volevo chiederlo a te appunto che hai tanta esperienza questa cosa ecco infatti poi mi è risposta ma diciamo poi anche che è una cosa interna ovviamente nessuno può essere un genio come Miles Davis di Miles Davis ce n'è uno, di Federico ce n'è uno, di Marco ce n'è uno certo però io quello che dico proprio è un come ti poni rispetto a te stesso nel senso che primo dobbiamo sempre cercare di allargare, migliorare la nostra coscienza di quello che abbiamo intorno, di quello che ci succede intorno e quello che ci succede dentro e poi non dobbiamo rinunciare a quanto anche se pochissimo di originale abbiamo noi oppure della necessità di esprimere quanto le cose a noi care non diventare delle macchine, delle coppie di proposito poi ovviamente ognuno fa quello che può e c'è spazio per tutti l'importante è avere una coscienza notevole cercando di approfondirla sempre di più e di non giocare a far finta di non avere delle esigenze espressive delle necessità certo sì perché non faccio nomi ovviamente conosci anche tu le persone che potrei citare però non le cito nel senso che mi è capitato appunto che persone professioniste si definiscono come dire io sono professionista, sono musicista, non sono un artista il jazz si suona così, punto nel senso quindi devi suonare in questo modo che da una parte come dire ammazza tutto quello che o comunque chiude tutto quello che hai appena detto l'ascolto con se stessi nel senso che cosa io poi voglio esprimere attraverso anche il linguaggio che ho ascoltato ecco quindi insomma ci sono tanti feedback che appunto oggi è poi difficile anche tra insegnante e insegnante magari statosferico bravissimo è anche difficile poi trarne diciamo la giusta mediazione anche interiore infatti in questo guarda la cosa più evidente si vede a livello di suono forse sulla chitarra è la cosa più complicata però me lo puoi sapere dire tu però se io penso alla batteria, al pianoforte, a un contrabbasso eccetera se io ho un fisico determinato tiro fuori un certo suono dal mio strumento se mi alleno in una determinata situazione per riuscire ad emettere un suono che io sento finché non l'ho trovato mi metto lì eccetera ho a che fare con qualcosa che dipende dal mio fisico dai miei sentimenti ma anche dal mio fisico per cui anche a livello sonoro il suono di due persone diverse per forza è diverso se invece non faccio ricerca su qual è il mio suono sarò professionale quanto vuoi però sono una macchina certo ed è assurdo dire io sono un professionista non sono un musicista professionista non so come neanche chiamarlo non mi viene neanche in testa le parole giuste però per dire io sono un elettricista non sono un musicista e faccio musica giusto perché l'ha fatta qualcun altro prima di me io la devo ricopiare tanto che adesso purtroppo anche a livello mondiale c'è una grande decadenza però il concetto stesso di cover band il concetto di progetto dedicato a progetto musicista tal d'Italia talvolta anche mentre è vivo questo qua io non so passerà tutto il giorno così non ho idea ma è assurdo è una cosa che ha iniziato a esserci insieme al decadimento musicale anni fa era impensabile cioè io potevo dedicare un qualcosa un disco un progetto al determinato musicista ma era un'interpretazione della sua musica certo oggi invece sempre di più vai a sentire cover band a livello sonoro non si sfrutta qual è la propria macchina cioè il proprio fisico e se uno uguale all'altro a livello di linguaggio devo copiare quella registrazione o me ne sto a casa guardo un video mi ascolto un disco perché devo venire fuori a ascoltare te a quel punto sì 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 certo e arrivati a questo punto mi piacerebbe che ci parlassi un po' so che tu sei appassionato anche di dell'interiore ecco quindi mi piacerebbe che un po' ci parlassi relazione ego e musica oddio appassionato dell'interiore lasciamo stare allora vabbè dell'interiorità insomma della spiritualità ok meglio molto meglio ok sì perché si lega al discorso di prima e sì un sacco di volte diciamo ci sono due pericoli uno il musicista macchina automa che abbiamo descritto prima l'altro è è musicista che ha mi piacerebbe tanto far rumi ma non si può che ha la sua musica le sue idee molto particolari e fa qualcosa in effetti di molto originale eccetera ma succede che anche lì nell'80% delle volte metti che esci a mangiare una pizza con questo personaggio parlerai soltanto di lui della sua musica dei suoi interessi si tiene all'inter dell'inter e ho dato un piccolo accenno di strada e così via cioè diciamo è veramente un pasticcio essere in equilibrio tra queste cose perché sembra che per riuscire a avere un'espressione compiuta originale musicale più egocentrico sono più sono immerso in me stesso meglio è perché troverò quella cosa in realtà non è vero cioè posso trovare anche quella cosa ma quella cosa avrà i limiti della comunicazione con gli altri e questo lo puoi vedere se il musicista diciamo molto egocentrico suona da solo ok tutto ok appena lo vedi in una formazione con altri musicisti e provi a analizzare l'interplay con gli altri vedrai che è zero certo quindi il problema è è difficile avere questo equilibrio ma questo equilibrio anche si trova nel rapporto con gli altri certo e gli altri non devono essere il tuo strumento voglio dire io ho un mio trio e ho un pianista e un batterista e voglio che suonino così così cosa e ho sbagliato io ho un mio trio voglio un pianista così un batterista così vado a cercare chi c'è e con chi può ma dopo una volta che ho deciso suono con questi e con questo do carta bianca e li sto ad ascoltare ti assicuro che trovarmi in una situazione così a suonare è molto molto raro più musicista è famoso in genere in Italia più tenderà a dirti fa questo diciamo che non mi è capitato quasi mai con nessun musicista americano europeo rarissimo è chiaro che non mi metterò a suonare free jazz con un musicista di Dixie però che ne so se io modifico un basso in uno standard suonando con non posso dire chi che siamo in Italia su YouTube ciao come stai avrò un feedback molto negativo se invece faccio questa cosa tra l'altro ti ringrazio Tony che mi hai chiamato a suonare un set con Gioi Calderazzo e lo faccio con Gioi Calderazzo sentirò un yeah dal pianoforte ok va bene questa è la differenza certo molto interessante ti faccio una domanda da guru guru Marco sto scherzando ovviamente sto scherzando ovviamente però ti voglio chiedere ovviamente in relazione alla musica che idea ti sei fatta dell'ego nel senso ha una sua funzione secondo te o che idea ti sei fatto tu di serve o non serve nella musica è importante è meglio suonarne senza o diciamo usarlo come strumento dimmi tu che idea ti sei fatta ovviamente se vuoi guarda che per definire che cos'è l'ego devi fare devi incontrare 50 maestri leggere 200 libri e avere una vita spericolata comunque certo e non mi fare queste domande a mio parere è impossibile vivere senza ego se no sei morto se sei qua e sei vivo è perché hai una personalità diciamo certo però la parola ego in genere viene utilizzata in un linguaggio improprio per definire un culto proprio della propria personalità certo però senza personalità non ci sei sei già passato a miglior vita certo assolutamente le nostre attitudini diciamo le nostre come noi ci relazioniamo certo un culto è farne il centro dell'universo della propria personalità è quello è quello che volgarmente chiamiamo ego tutto ruota intorno a me in funzione di me è un culto è dire ok siamo qua ridiamoci sopra tra l'altro una cosa bella da fare la mattina appena ci si trova davanti allo specchio del bagno fare fare una bella risata indicando chi hai di fronte è vero hai ragione mi viene in mente John Coltrane ovviamente parlando di questi di questi discorsi che lui verso la sua diciamo verso i suoi ultimi anni diciamo era solo quando si sentiva dimmi se sbaglio ovviamente che sei più sei più di me nel senso che era un po' si sentiva un po' un messaggero no del divino nel senso attraverso di lui lui esprimeva appunto qualcosa di più di lui no dimmi se sbaglio guarda chi chi è dentro questo sentire non lo dice mai in questi termini ok quello che dicevo Coltrane è io faccio meglio che posso quello che faccio perché questo secondo me è lo scopo della vita certo è chiaro che se sono Coltrane faccio meglio che posso quello che faccio e invece sono Marco e faccio meglio che posso quello che faccio c'è un po' di differenza ma non è per dire oh fermi tutti io sono messaggero sor figlio di torre e mo vi dico una messa certo certo ti senti di dire qualcos'altro su questo argomento o se no ti faccio un'altra domanda fai pure un'altra domanda ok e vabbè io ti vorrei riportare un po' diciamo che siccome so già che tanti guarderanno questa intervista perché ci sei tu e perché sei un contrabassista quindi magari tanti contrabassisti ti vedranno questa intervista e volevo anche che tu ci parlassi un po' del tuo strumento del contrabbasso e qual è il suo ruolo all'interno di un ensemble jazz o appunto se ci vuoi raccontare un po' il tuo strumento all'interno di un ensemble jazz ma anche di un ensemble in generale diciamo la figura del basso all'interno di un ensemble di un gruppo qual è la sua funzione? Quante ore abbiamo? Aspetta fammi vedere no un accenno diciamo allora non sto a parlare di tutte le regole per fare una buona linea di basso avete a disposizione in rete se io vado su un sito che inizia per S e finisce per S trovo un sacco di materiale più o meno gratuitamente e e basta aprire un cioè al giorno d'oggi non mi dite che non trovate metodi che vi spieghino come sono fatte le linee di basso se o partiamo da lì e in realtà quello che a mio parere dovrebbe succedere è parliamo sempre di un setting tradizionale in cui il basso suona in quattro suona in walking e fa delle linee è concepire quello che stai facendo come una voce all'interno di quello che sta accadendo ovviamente stai suonando il basso non stai suonando il sax soprano o chissà cosa quindi le note che scegli le note che fai non devono essere pensate in base a un algoritmo tonica cinque terza nota di passaggio tonica o robe del genere ma devono essere pensate come una miglior contromelodia possibile che nello contempo deve rendere chiaro qual è l'armonia su cui sto suonando se ce n'è una mai certo e in questo c'è una bella tesi in rete che mette a confronto cinque o sei metodi di quelli che potete trovare dove vi ho indicato prima e poi mostra per esempio come Charlie Eden non rispetti una pagina di tutti questi metodi ed è molto interessante un esempio potete sentire che adesso Charlie Eden e Brad Meldau dal vivo o priva di Charlie Parker un blues e cosa ne fa Charlie Eden di un blues quindi un blues cosa diventa? un concetto espressivo una forma espressiva un blues innanzitutto non è una forma musicale dal punto di vista del bassista in cui ho primo quarto primo primo set e così via così via di gradi degli accordi la mia tonica le mie note dell'arpeggio la nota di passaggio la nota di armonica e così via ma iniziamo proprio da quello che nella scuola dove ho insegnato è sempre stata una materia fondamentale storia della musica analisi delle forme è una forma musicale in cui c'è un enunciato tesi antitesi è una conseguenza di quello che succede quindi io devo dare con la mia linea questo senso chiaro che lo do se rispetto tutte le regole ma posso darlo anche se ho chiaro queste regole e non le rispetto è come dire se io vado a vedere una partita di pallacanestro e non so le regole io penso che mi annoio dico ma perché quello con la palla in mano non può fare 4-5 passi e poi avvicinarsi no perché i passi sono 3 perché e così via così il suonare diventa e ci sono dei metodi come quello di Kenny Werner o altri che spiegano questa cosa diventa il suonare su una forma in cui io suono sopra questa forma non è che devo spiegare questa forma a un ascoltatore ignaro cioè se io ho degli accordi o da qui devo passare facendo una linea di basso non è che devo chiarire a qualcuno che suona con me che altrimenti si perderebbe e non ha capito niente quali sono le toniche tutte passare sempre di lì ma devo dare il senso di questa armonia cioè non è che posso suonare liberamente e fare quello che voglio fuori da questo senso ma questo senso lo posso anche dare in tanti tanti altri modi quindi l'unica è proprio ascoltare trascrivere suonare e la scelta che farai tu di cosa ascoltare di cosa trascrivere di cosa suonare non la farà nessun altro alla fine se io scelgo dieci brani non saranno gli stessi che scegli un altro quindi il vocabolario che mi formerò io non sarà uguale al vocabolario che si forma un altro e il ruolo del basso è appunto quello di fare una linea di controcanto che abbia un senso che dia senso a quello che sta facendo un solista che dia senso anche rispetto ai registri di quello che sta suonando la batteria per esempio poi apriamo tutto un discorso su quello che è il fil ritmico di una linea di basso questo per esempio rispetto ai registri più grave io suono più il tempo tenderà un attimo a sedersi più acuto io suono tenderà un attimo a spingere quindi sta a me come gestisco i vari registri qualunque registro posso appoggiarmi stare centrale spingere in avanti però ben sapendo l'effetto sull'erecchio umano più grave io sono più non sono immediate delle note e quindi questo ha un valore fondamentale nell'interplay col batterista per esempio e nell'interplay col solista con tutti perché poi ovviamente non è che uno ha l'interplay con lo strumento e basta gli altri che non li stanno ascoltando però ci sono tanti tanti aspetti alla fine che uno cura quindi l'altra cosa importante è curare il rapporto tra il proprio strumento e siamo un quartetto con la batteria proprio strumento piano proprio strumento il solista x e poi imparare a gestire tutto contemporaneamente cosa succede se io cambio un basso e il piano o la chitarra mette un accordo in una certa maniera cosa può funzionare cosa no cosa succede se io interrompo il fluire del tempo faccio delle note in levare faccio tante acciaccature eccetera rispetto a quello che fa la batteria cosa succede se io provo a rispondere al solista facendo una linea particolare questo implica che anche gli altri devono ascoltare me comunque quindi questo è in un setting tradizionale la cosa ovviamente quando il setting non è tradizionale e diciamo parliamo di musica più aperta non è tanta diversa la cosa perché io concepisco sempre che sto suonando lo strumento che ha quel registro e sto facendo una linea che si deve incastrare con quello che fanno gli altri ti dico adesso non mi ricordo esattamente eh sì John Stevens che è un grande batterista di era non so è penso ancora vivo non ho idea di musica free inglese ha avuto un gruppo che si chiama Spontaneous Spontaneous Music Ensemble e la prima regola era non non suonare quando non riesce a sentire quello che fanno gli altri questo nell'ambito della musica improvvisata ma sia in quello che in un set in più tradizionale lo stesso in realtà meno mi ascolto e più ascolto gli altri meglio è e l'altra cosa è formarsi una coscienza musicale molto approfondita cioè riuscire a ascoltare tante cose contemporaneamente capire cosa succede ma a un certo punto lasciare andare le mani da sole quasi cioè il nostro inconscio è molto più veloce di quello che è il conscio una volta che io penso ah che bello sarebbe adesso ficcare questa frase qua dentro o questa cosa è stupido lo faccio il momento è già passato il momento giusto di fare quella frase era quando ho pensato sarebbe bello fare quella frase lì o quel commento lì mentre accompagno o quella nota lì il momento già se n'è andato è vero però diciamo che quell'inconscio bisogna anche un po' prima riempirlo di coltivarlo coltivarlo sempre sempre non si finisce mai perché se no l'inconscio risponde male diciamo se abbiamo coltivato cose sbagliate o studiato cose sbagliate sbagliate non è che le studi se se non studia approfonditamente diciamo diciamo che non c'è giusto sbagliato c'è quello che ci sta in quel momento o quello che non ci sta se io non suono nel momento a mio parere non sto suonando jazz è un discorso che l'iconizza approfondisce molto specie in un libro dove viene riportata una sua intervista su quello dove è anche molto polemico rispetto a altri colleghi come James Moody o altri lui dice il momento che ho il mio repertorio di pattern e li uso adesso faccio questo non sto suonando jazz certo certo è un modo un po' radicale di vedere le cose ma poi in pratica è molto difficile fare questa cosa e anche può sembrare che uno che fa questa cosa non la stia facendo ma in realtà quello che posso suonare io dipende dal mio fisico dipende dalla mia coscienza dipende dal mio strumento dipende da tante cose alla fine è prevedibile il campo in cui avverrà quello che sto per suonare ma non è prevedibile nel dettaglio nel momento certo cioè posso ascoltare Charlie Parker e dire ah questa frase l'ho già sentita nell'altro solo o questa ma non saprò mai dire quando arriverà quella frase non posso mai prevederlo prima poi la sento e dice ah sì è quella là è quella cosa lì però prima non potrei dire che arriva quella cosa ancora di più monk se ascolta ah sì adesso rifarà il tema sì finché sono così ambiguo definisco un campo sì posso beccarci ma che arrivi quella cosa esattamente non lo so mai è imprevedibile certo a questo proposito ti volevo dire ti volevo chiedere insomma quali siccome tu hai insegnato per tantissimi anni diciamo che anche la didattica è stato un tema importante è un tema importante nella tua vita diciamo volevo chiederti appunto che in relazione a quello che abbiamo appena detto cosa hai cercato di di trasmettere ai tuoi studenti durante le lezioni di musica d'insieme sicuramente posso già confermare tante di cose tante cose che hai detto anche adesso però diciamo su che cosa cosa volevi trasmettere o cosa hai trasmesso che principi volevi trasmettere oltre appunto questi che hai già citato se seguivi una linea specifica o ti facevi influenzare dagli studenti che trovavi nelle tue lezioni a se a me spesso piace entrare in aula con due o tre libroni e dire il campo di cose che posso fare è questo però non so oggi cosa faremo vedere cosa succede chi c'è chi non c'è chi è presente chi è assente come è messo chi viene se di buon umore di cattivo umore se io sono di buon umore o cattivo umore e così via è scegliere e il concetto è sempre essere pronti su due fronti uno il fronte tra virgolette professionale devo saper leggere devo saper affrontare la difficoltà di avere a che fare con del materiale nuovo al momento perché finché adesso in una lezione si è qua possiamo darci il tempo di sbagliare fare quello che vogliamo però non è detto che in futuro uno si trovi in una situazione in cui non c'è tempo di far quello deve essere allenato e l'altra invece dentro di quello sviluppare tutte le cose che abbiamo detto fino adesso certo e delle volte è una lotta e delle volte no delle volte proprio io hai a che fare con il rifiuto e il rifiuto molte volte dipende dal giudizio cioè quando io devo suonare devo giudicare quello che ho fatto se è buono o non è buono guarda in questo ti racconto una cosa di Franco Cerri suonando con lui io sono uno specialista in giudizio perché sono il peggior giudice di me stesso e quindi queste cose le capisco e cerco di spiegarle agli altri di non farle quindi suonato finito il concerto vado da Franco e gli dico Franco mi dispiace ho fatto veramente una schifezza quel solo lì e scusami mi dispiace e mi ha guardato per dire oh ma chi sei tu per giudicare quello che hai fatto e poi mi ha detto no andava bene era una buona cosa ma il concetto era oh basset un po' vola basso cioè chi sei poi la musica mi fa non è nelle tue mani quindi le cose spesso su cui si deve lottare sono la mania di controllo e il giudizio e io sono il primo specialista proprio perché li conosco molto bene e sono un disastro su questo punto di vista cerco proprio di spiegarlo il più possibile di riuscire ovviamente se ho fatto una cosa che non mi aspettavo riuscire magari se avessi la possibilità di riascoltarla ascoltarla con un altro orecchio infatti la cosa che io invito a fare è che è un processo molto doloroso è sempre riascoltarsi per un certo periodo della propria vita e riascoltarsi veramente anche lì è il discorso di prima o molto doloroso o diventa una manifestazione del proprio ego guarda che bello conosco dei musicisti che ascoltano soltanto quello che hanno suonato loro anche lì non posso far nomi mi dispiace ma ne conoscerete senz'altro qualcuno infatti mi viene in mente proprio Kenny Werner nel suo libro nel senso che dice che poi appunto è anche difficile per persone tipo quelle che hai appena citato potenzialmente è difficile anche ascoltare nel senso che in realtà poi bisogna essere anche dei bravi ascoltatori per essere anche dei so che l'hai già detto ma nel senso che spesso non riusciamo ad ascoltare gli altri soprattutto noi musicisti perché intanto che ascoltiamo già uno spirito critico incomincia subito ad analizzare e non riesce neanche a far fluire l'ascolto no? Non parlo neanche di interplay parlo proprio come ascoltatore a casa con le cuffie e questa cosa devo dire che anche questo è una bella sfida nel senso che anche io la vedo su me stesso tendiamo sempre a giudicare giudicare gli altri giudicare noi stessi è difficile anche ascoltare è veramente difficile tante volte soprattutto oggi e la cosa peggiore poi è giudicare e anche questo io ho fatto un sacco di errori nella mia vita l'ho imparato perché il primo a fare le cose sbagliate sono stato io per quello che imparo queste cose io dico racconto sempre tutti gli errori che ho fatto per tentare di non farli fare agli altri a mio parere è quello di giudicare le persone con cui suoni e veramente crea un clima orribile in un gruppo in cui stai suonando poi generalmente queste persone con un grande ego vedi che non ascoltano mai altra musica o se ascoltano altra musica dopo 30 secondi si annoiano certo oh quando mi viene in mente una cosa che mi è scappata te lo dico andiamo avanti no mi viene da condividerti questa cosa che sono stato a una jam session qualche giorno fa e mi ha colpito questa cosa sempre sul giudizio nel senso che la faccio breve nel senso che si diceva oh dentro ci sono bravi suonano bravi oggi cioè nel senso c'è gente che suona bene cioè nel senso la jam session va bene cioè oggi è forte no io nel senso anche lì mi dico sempre che sto riflettendo molto sulle cose che anche tu stai hai citato no anche lì mi chiedo ma perché dobbiamo fare una jam session pensando c'è quello bravo o forse perché non facciamo una jam session chiedendoci siamo lì conosciamoci che cosa vogliamo esprimere in questo momento cioè nel senso fare qualcosa no c'è quello lì bravo no dai sai ecco forse non lo so io l'ho sentito mi ha colpito molto questa cosa guarda una cosa umana è la competizione è delle volte anche bello nella jam session però è anche non molto corretto per non dire parolacce nel senso che metti il tal dei tali è il bassista della serata e sta suonando da un'ora e mezza certo un'ora e mezza due arrivo io a fare la jam session fresco fresco piglio il basso suono un pezzo col volume al doppio di quello che poveretto stava suonando da due ore e poi lascio il basso e dice guarda che bravo che sono sono arrivato io superman e robe così è normale che succedano cose così è la natura cioè che ne so la lotta nel branco per diventare capobranco cose del genere però alla fine tu incontri le persone che devi incontrare cioè se io dico c'è quello bravo vado a mettermi in mostra così quello bravo mi sente e mi chiama se quello bravo è del tipo che non conosco queste dinamiche arrivi tu fai lo show dici bravo quello lo chiamo ho trovato il perfetto idiota bravo che di cui avevo bisogno se invece cerco uno bravo ma con un po' di coscienza musicale non si fa abbindolare da queste cose certo e poi ve l'ho detto una cosa che mi era venuta in mente sì una cosa curiosa è stata un tanti anni fa Pat Metini di passaggio a Milano dice ma sì vado in un locale e suono lo dice l'impresario l'impresario telefona ad Antonio Farao qui Antonio Farao mette insieme una ritmica c'è tra le scimmie e arriva Pat Metini sì ovviamente Antonio Farao è un musicista immenso e quindi potrebbe tranquillamente suonare in un disco X di Pat Metini io no allora assolutamente no e anche altri che erano con me non direi tanto e eppure suonando due pezzi con lui che deve aver suonato Blue Boss più un'altra cosa cioè una roba semplicissima vedi come comunque il suo suonare nasce da chi c'è dietro anche se è un emerito scalzacane o uno a livello molto inferiore vedi che c'è la coscienza di io posso suonare bene se valorizzo gli altri che suonano con me certo e questa è una vera abilità ma che è molto 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 difficile certo questa è una cosa incredibile certo e un'altra cosa mi ricordo fatto l'interprete a Dolo per un seminario e nel locale di Dolo la sera si facevano dei dei concerti misti tra interpreti e insegnanti ok quindi ho potuto fare l'incomodo in mezzo a un gruppo con Lewis Nash Walter Bishop Curtis Fuller Gary Barts e prima di suonare comunque tutti nel camerino dietro al palco a ridere scherzare eccetera non c'era chi stava per gli affari suoi a bere eccetera o con a broccolare o a fare chissà cosa no tutti lì prima di entrare tipo squadra di squadra di basket o di baseball americana tutti ma proprio stupidate ma però per dire siamo un team insieme e dobbiamo lavorare insieme e fare qualcosa di insieme per gli altri certo mai visto questa cosa in un gruppo italiano molto rara sono d'accordo e se hai qualcosa da aggiungere su questo argomento no tra poco devo andare a fare il nonno per cui se hai qualche ultima domanda nel senso che il mio nipotino Giovanni esce dall'asilo certo certo allora vediamo allora ti faccio delle domande vedi tu quella che vuoi allora come come sai è bello finire sempre con degli aneddoti questa è una cosa se vuoi se no appunto ti volevo chiedere come definiresti come è stato come definiresti il tuo percorso nella musica ecco questa magari è una domanda che se ti senti di rispondere come è stato il tuo percorso nella musica se no passiamo agli aneddoti facciamo due risate no allora aspetta mi ricordo una frase che diceva sempre Lucio Terzano per ridere però adesso non mi viene la parola esatta tipo Lucio diceva Marco Vaggi una grande promessa una squallida certezza però non era grande promessa un'altra cosa non mi viene in mente se ha a che fare con lui dopo chiediglielo no non posso dare una definizione non esiste aneddoti ne abbiamo detti un po' se ti viene da chiedermi qualcos'altro mi viene da chiederti questa cosa da un punto di vista didattico poi ovviamente un aneddoto poi voglio che me lo racconti però cosa vuoi che nel senso quello che mi viene in mente che cosa hai trasmesso nelle tue lezioni negli ultimi anni che cosa pensi di aver lasciato ai tuoi studenti o cosa hai voluto lasciare negli ultimi anni ai tuoi studenti parlando proprio del passato prossimo non ti parlo guarda penso di tentare aver tentato di passare il fatto che la musica è una cosa seria tutte queste cose noi ci scherziamo ridiamo ovviamente ma si tratta della tua vita che è una cosa serissima ci posso ridere ma è proprio una cosa seria e di comunque riuscire a ascoltare e in senso molto ampio di capire anche in che periodo vivo cosa sto facendo cosa stanno facendo gli altri e così via più passavano gli anni più siamo andati verso lockdown o cose così diciamo più questa cosa mi sono sentito che non stavo passando niente a un certo punto cioè negli ultimi anni si è verificata una sorta non da parte di tutti ma mi sono reso conto di non riuscire ad arrivare dove volevo un sacco di volte quindi di non che una volta che un ragazzo passava da me finiva l'avevo perso non era rimasto qualcosa e questi ovviamente non succede con tutti è rimasto con qualcuno ma mi sono reso conto di come era messa la società come stava andando le cose la vita piano piano stavo perdendo le persone non riuscivo ad avere l'effetto che avevo prima quindi posso dire che non riuscivo più a comunicare queste cose o riuscivo a comunicarle solo ad alcuni quindi il problema sarà senz'altro una parte mio e una parte di quello di come sta andando la vita ora e di perché ci troviamo come siamo ora in questa posizione al giorno d'oggi sociale politica è tutto se ci troviamo in questo secondo me è chiaro ognuno ha le sue responsabilità a me compreso però proprio ho vissuto la difficoltà e quasi l'inutilità di andare avanti sì avrei avuto quelle 3-4 persone con cui mi è dispiaciuto interrompere i rapporti essendo quest'anno appunto in ritiro sabbatico sì però queste persone erano sempre meno devo dire certo quindi sentivi che non c'era diciamo a livello degli studenti come se non c'era un transfert usiamo questo termine cioè come se tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi facessero parte di una realtà antica a cui non si bada più tanto e e io dovessi resettare quello che sto facendo per far arrivare parte di queste cose certo e quindi sono in questa situazione di di dovere riconcepire cosa devo fare se voglio trasmettere determinate cose che è poi quello di cui abbiamo parlato fino adesso certo certo sono veramente contento che che di averti anche dato l'opportunità di di appunto esprimere tutte queste cose che di cui io concordo molto pienamente e chiudiamo magari con un sorriso che ne dici se hai tempo vuoi raccontarci vuoi raccontarci l'aneddoto un aneddoto così veloce no ne ho dette dai ne ho dette oggi ok ne ho dette va bene anche perché per fare aneddoti in genere e ridere c'è di mezzo un'altra persona su cui ridere è difficile se devo mettere il sottoscritto su cui ridere dico sempre le stesse cose beh raccontaci dai quello va bene l'aneddoto di Liconitz dai questo perché ci siamo sentiti prima ne abbiamo parlato comunque era per dire cerchiamo sempre di trovare la cosa positiva in tutte le cose brutte che succedono quindi di riorientarci quindi dicevo in quegli anni in quell'anno in cui mi sono ritirato prima all'inizio degli anni 80 cosa era successo che andando a fare la ritmica a Liconitz a Firenze suono un pezzo Liconitz guarda tra il pubblico individua un ragazzo americano contrabassista in visita in Italia per vedere le bellezze di Firenze e altre città e mi dice vai giù prego fa salire quest'altro questo ragazzo suonava molto bene tra l'altro magari un bassista famoso non ho mai saputo chi fosse ha suonato tutta la sera poi l'ultimo pezzo mi ha detto sì va bene adesso vieni su dai ultimo pezzo e via ovviamente questo si chiama una grande figura di puntini puntini e quindi il mio orgoglio era fatto a pezzi però c'è sempre il modo di reagire in un altro modo nel senso che sono andato all'Iconitz e gli ho detto ma scusa perché hai fatto così spiegami cosa devo mettere a posto cosa devo fare e lui si è seduto ha preso una birra e mi ha spiegato tutto il lavoro che avrei fatto dopo con trascrizioni pianoforte miglioramento della tecnica e tutto tutto questo programma che mi sono fatto di cui ti parlavo un anno che in realtà è molto semplice però è fondamentale me l'ha insegnato lui ovviamente lui fa viene dalla scuola di Lenny Tristano insegnante non vedente quindi la carta scritta il foglio non c'è imparo il più possibile a orecchio a trascrivere a ripetere a riprodurre e quindi proprio la coscienza dell'ascolto messa in pratica è coscienza di tutto quello che ti manca però ci deve essere sempre qualcuno che te lo dice e in quel momento vorresti scavare un buco sotterrarti e scomparire però è molto importante che succeda no infatti secondo me è un bellissimo aneddoto prima di tutto perché è divertente ma poi c'è anche diciamo è anche una lezione di vita che hai che hai ovviamente ricevuto perché poi lì ti avrà cambiato anche la vita sicuramente assolutamente sì se tu credi di essere qua improvvisamente ti rendi conto è vero dove sono dove sono finito va bene Marco allora grazie mille per aver partecipato per aver accettato veramente sono veramente grato onorato di averti avuto qui oggi con me veramente grazie mille so che devi scappare quindi ti saluto grazie a te Federico ho visto che fai un bel lavoro vi invito a guardare il canale di Federico su YouTube ciao a tutti ciao Marco a presto ciao a tutti e grazie per aver seguito questa intervista insieme a Marco vaggi